Allora ragazzi, benvenuti o bentornati qui sul canale Gracialarzi, il canale per veri collezionisti, amanti della cultura nerd pop in generale e anche creativi. Oggi, come avete potuto capire dal titolo, siamo qui con una nuova recensione, però vi prometto che prossimamente arriveranno anche video sulla creatività, quindi state sempre connessi, ovviamente iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per essere sempre aggiornati sui futuri video. Come avrete potuto capire dal titolo, oggi recensiremo The Child, direttamente dalla serie tv su Disney Plus di The Mandalorian. Ovviamente non è una figura uscita di recente, ma è un recupero che abbiamo fatto appunto per vederla qui sul canale, che voi avete fatto ovviamente anche, perché avete scelto tramite sondaggi che trovate sui miei social Instagram e Facebook, cliccando qui sotto nei link nella descrizione troverete praticamente tutti i link dei miei social Instagram e Facebook, dove potete votare i sondaggi per scegliere le figure che porteremo qui sul canale. E Grogula è stato uno di questi che l'ha spuntato ovviamente, quindi state sempre connessi e ogni giorno troverete sfide tra personaggi e figure che appunto si sfideranno e che voi farete vincere. Continuiamo oggi la nostra recensione e vediamo appunto la più piccola forse figure, action figure, vedete che è anche articolata, che abbiamo visto qui sul canale, quindi guardate qui, piccola ovviamente quanto la mia mano, quindi una mini figure, quindi stiamo parlando appunto di The Child e Mandalorian. Vediamo subito il box da più vicino, perché così la vedete anche meglio, perché talmente è piccola che ci vorrà un super ingrandimento. Quindi questo è il box praticamente con la piccola vetrinetta molto carina, con la scritta ovviamente del brand Star Wars, direttamente dalla Black Series, prodotta dalla Hasbro. E appunto, come dicevo poco fa, è una serie tv che l'avete visto ovviamente su Disney Plus, se non l'avete vista è recuperata, la The Mandalorian si chiama, per chi che magari non la conosce. di lato abbiamo soltanto delle scritte anche a questo lato, sopra soltanto scritte e anche dietro, non ci sono immagini della figure, quindi non ci resta che andarla a vedere fuori dal box. Ed eccoci qui con il nostro Baby Yoda, come è stato determinato da tutti i fan nel mondo, il nostro personaggio praticamente, c'è al centro del ring, quindi guardate quanto è piccolo in confronto a tutto l'immenso ring. Ora lo vedremo anche da più vicino ovviamente. E vediamo appunto, come ogni figure che appunto si rispetti, anche lui ha i suoi piccoli gadget, ancora più piccoli di lui, quindi state attenti a non perderli ragazzi, anzi hanno fatto una cosa buona creando questa piccola scatoletta in plexi, una plastica veramente dura, dove potete appunto tenerli all'interno questi tre piccoli gadget e scopriamoli appunto da più da vicino. Iniziamo con quello più piccolo, ovviamente c'è questa micro pallina in colore grigio, ovviamente quasi gunmetal, che appunto è un oggetto che userà Grogu o Baby Yoda, come volete chiamarlo, nella serie ovviamente su Disney Plus, che trovate di domanda a Orion, e lo utilizza quasi per molte puntate, quindi si affeziona a cominciare a giocare con questo, che è una manopola praticamente di un'astronava di Mandalorian, e comincia a utilizzarla come oggetto, come gioco, quindi questo è uno dei gadget che ci sono all'interno. Poi troviamo praticamente pure questa scodellina, che lui comunque l'ha utilizzata per bere o per mangiare, se non mi ricordo, quella minestrina che gli davano da mangiare appunto, quindi fatta pure molto bene in plastica marrone scuro. E per ultimo ovviamente con questo gadget che era molto importante, che è ovviamente una rana aliena, di cui il nostro Baby Yoda ne va a ghiotto, quindi era fondamentale ovviamente inserirla anche tra i gadget da tenere. Infatti se recuperate la serie, la vedrete in azione, soprattutto mentre lui l'andava a mangiare praticamente, quindi fatta molto carina, pure con la parte sopra più scura e sotto invece su questo verde acqua più chiaro. Addirittura pure fatica la mia fotocamera a inquadrarlo perché talmente è piccola e a metterla a fuoco. E poi andiamo al nostro personaggio invece, vediamo finalmente il nostro piccolo Baby Yoda più da vicino, fatto molto carino, vedendolo qui, un viso molto carino. Anzi vedendolo più da vicino all'inizio, magari se uno lo vede da lontano non lo capisce che la fattura magari è fatta molto bene, però se vedete il meglio, anche da più vicino ci sono le sfumature qui sul viso, quindi ha pure le guanciotte tipo di colore più rosa, anche le orecchiette sono fatte un po' più rosa, molto carino, anche sotto gli occhi, i bordi degli occhi, quindi è fatto anche molto bene a livello di qualità. Vediamo se riuscire ancora appunto più da vicino perché è messa a durare proprio la fotocamera talmente piccola. E adesso vediamo appunto, poi abbiamo a parte questa, il fatto delle sfumature, fatte molto bene, c'è il vestito ovviamente tutto in questo marroncino chiaro, con le parti delle maniche e il collare più più chiari appunto. A parte questo non è una figura ovviamente che è bloccata, ma ha anche delle articolazioni, che sono praticamente quella è la testa, quindi può muovere la testa avanti e dietro e può anche essere ruotata, di 360 gradi. E poi ha le articolazioni addirittura qui alle braccia, molto carine, che può muovere, come vedete, non sforzate troppo perché ovviamente si toglie. Ha sempre questa, ovviamente, la pallina all'interno, quindi si può ruotare e può muoversi. Non ha un arco ovviamente super articolato, però la potete muovere. E anche la manina pure al piccolo peg con la pallina all'interno che può essere mostra, quindi anche la manina è articolata. E per finire ovviamente anche i piedi sotto, guardate qui, hanno l'articolazione piccolissima con la pallina, con il peg, che gli permette appunto di muoversi. Quindi, nonostante sia così piccola, è anche articolata. Quindi abbiamo davanti la figura più piccola articolata al mondo, se non sbaglio. Ma adesso vediamo invece quanto è alta questa piccola figura. E quindi, con un mega zoomone, vediamo che il nostro Baby Yoda è alto 3 centimetri, ragazzi. 3 centimetri spaccati, quindi siamo praticamente su un pollice di altezza. La figura più piccola recensita al momento sul canale. Ma invece vediamo che pesa questa piccola figura. E' fatto salire, pure sul nostro villaggino troppo carino, il nostro Baby Yoda pesa 5,7 grammi, ragazzi. Non arriva neanche a 10 grammi. piccolissimo e dolcissimo. Ma adesso andiamo invece nell'ultima parte della nostra recensione, dove scopriamo qualche particolare in più sul nostro Baby Yoda. Ed eccoci qui, con il nostro piccolino Grogu, che come da tradizione comincia a rotellare sulla basetta rotante, anche lui, come tutte le figure che abbiamo già visto su questo canale. E scopriamo qualche dettaglio su questo personaggio, appunto. Con Grogu, ovviamente è conosciuto anche semplicemente come il bambino, e the child in inglese. E' chiamato Baby Yoda dai fan e dai media. E' un personaggio immaginario che compare nel franchise di Guerre Stellari, nella serie televisiva di The Mandalorian. Ed è un membro della stessa specie aliena di Yoda, un personaggio popolare dei film di Star Wars. E' uno dei personaggi più presenti nella serie, comparendo in tutti gli episodi, a eccezione del quindicesimo. E' secondo solo al mandaloriano, Dean Jarin, presente in tutti gli episodi. Il bambino è stato ben accolto dal pubblico ed è rapidamente diventato un meme di internet. E' un personaggio di successo. Il vero nome di Grogu viene rivelato solo nel quinto episodio della seconda stagione della serie, quando il personaggio entra in connessione mentale con la Jedi Asokatano e le rivela alcuni particolari della sua vita. ovviamente non sto qui a dirvi tutto nelle puntate di The Mandalorian, perché è bello andarle a scoprire voi stessi, ovviamente se non l'avete visto. Quindi io non sono un fan partito di Star Wars, però alcuni personaggi mi piacciono molto e quindi ho apprezzato anche questa serie perché mi è piaciuta molto. E' molto avventurosa e molto carina anche da vedere. Per quanto riguarda la nostra piccola figura che vediamo qui di fronte, sono rimasto molto contento perché pensavo che non era fatta magari anche bene nei dettagli. Però devo dire che anche essendo così piccola, hanno messo appunto dei particolari che sono molto apprezzabili. Già a partire dai piccoli gadget che abbiamo trovato all'interno e anche la cura dei dettagli del viso e le sfumano tutte piccoline che hanno messo. Quindi per essere così piccoli hanno si sono impegnati molto. Quindi è molto carina. Se volete appunto una piccola figura in scala appunto 1.12 nella vostra collezione, questa è sicuramente la più bella da vedere. Ve la consiglio sicuramente. Fatemi sapere se anche voi siete magari fan di questo piccolo personaggio, se l'avete presa in collezione, questa era la minifigure o avete anche altri gadget induranti a questo personaggio, scrivetemelo qui sotto nei commenti. Ovviamente se il video vi è piaciuto lasciate come al solito un like, condividete, commentate e soprattutto iscrivetevi al canale, come dice il nostro piccolo Grogu, cliccate sotto e appunto cliccate anche sulla campanella per essere sempre aggiornati sui futuri video. Per dire questo è tutto dal vostro Glacian e dal vostro piccolo Grogu che vi offre una ciotolina di minestina. Alla prossima ragazzi. Allora!